buongiorno e bentrovati oggi andremo a parlare di concorsi a cattedra e a giorni ci sarà la pubblicazione del primo bando prima domanda quali saranno i tempi di esplitamento del primo concorso ordinario a cattedra per infanzia primaria secondaria di primo e secondo grado i tempi sono ormai maturi e i bandi sono pronti oggi 15 novembre nell'informativa che il ministero dell'istruzione del merito ha fatto ai sindacati è stata data la notizia che i bandi saranno pubblicati probabilmente entro novembre con scadenza delle domande di partecipazione entro il 29 giorno successivo la data di pubblicazione questo significa che se per caso dovessero bandire il concorso per il 17 di novembre e la domanda di partecipazione andrebbe dalle ore 14 del 17 novembre fino alle ore 23 e 59 del 16 dicembre la prova scritta sarà svolta quasi sicuramente in gennaio 2024 e tutto sarà terminato anche con gli orali e dunque le gradatorie entro il giugno 2024 il 30 giugno 2024 domanda numero due quanti posti saranno disponibili per le prossime emissioni ruolo con il bando dei concorsi a cattedra il primo bando offrirà all'incirca qualcosa come più di 30 mila posti né per la precisione per questo primo bando di concorso a cattedra che riguarderà sia infanzia la primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado saranno disponibili 9.641 posti per infanzia e primaria sia per posti comuni che posti di sostegno sono all'incirca qualcosina in più i posti di sostegno rispetto ai posti comuni e sono soprattutto posti di sostegno alla scuola primaria ce ne sono pochi poco più di 600 di sostegno per l'infanzia e poi abbiamo invece 20.575 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado sia posti comuni che posti di sostegno andiamo alla terza e ultima domanda per quante classi di concorso è possibile presentare istanza di partecipazione sempre per chi ha i requisiti si intende di accesso e in quante regioni è possibile fare questa domanda allora dividiamo i due concorsi per scuola secondaria di primo e secondo grado e scuola invece dell'infanzia e scuola primaria per la scuola secondaria è possibile scegliere una e una sola regione dove al massimo si possono presentare quattro istanze una prima istanza per una classe di concorso di secondaria di primo grado per posto comune una classe di concorso per sempre per la scuola secondaria di primo grado ma per i posti di sostegno una classe di concorso di secondo grado questa è la terza terza possibilità di secondo grado ma per posto comune e in ultimo quarta possibilità una classe di concorso di secondaria di secondo grado ma per posto di sostegno stessa cosa può essere fatta per la stessa regione della secondaria o anche per altra regione per infanzia e primaria dunque anche per infanzia e primaria si può fare il concorso dell'infanzia posto comune dell'infanzia posto sostegno della primaria posto comune e della primaria posto sostegno i tempi sono ormai pronti ormai maturi e seguiteci nei nostri canali social facebook youtube nelle nostre dirette perché andremo a informarvi in maniera specifica su questi bandi su questi concorsi non mancheranno i miei tutorial per far vedere come procedere per la presentazione della domanda al concorso un saluto a tutti e per chi dovrà fare questo concorso anche buon concorso arrivederci grazie a tutti